Ciao, sono Massimo Strazer, ex ciclista professionista per 14 stagioni, 9 giri d'Italia, 2 prova di Coppa del Mondo e 41 vittorie. La mia specialità era la velocità, ora mi occupo dell'applicazione di nuove tecnologie e di analisi del movimento. Condivido questa passione con gli amici di Paluani e cercherò di darvi dei consigli per ottimizzare le vostre uscite e rendere meno faticoso questo sport. Seguitemi su questo percorso che ci porterà da Maccesine alla salita della panoramica. Come organizzare la nostra giornata in bicicletta? Una buona colazione con carboidrati, proteine e lipidi, tenendo sempre presente della lunghezza del percorso, la durezza e le condizioni climatiche, quindi il bestiario che ci permetta di affrontare le avverse condizioni climatiche, in umidità, temperatura e soprattutto il caldo. A metà percorso è importante recuperare energie dal punto di vista nutrizionale e calorico. Non c'è niente di meglio che una buona Brioche Paluani preparata con latte fresco. Mi raccomando ragazzi, oltre ai consigli che vi ho dato, seguite sempre uno stile di vita sano, regolato ed effettuate sempre nel vostro medico sportivo una visita di donità. Iscrivetevi su PaluaniLite.tv e le vostre impressioni sui percorsi. Alla prossima, ciao!